In concomitanza con il periodo di mulitura delle olive e produzione dell'olio, il territorio della Piana di Gioia Tauro è stato al centro di una poderosa campagna di controlli ambientali, con servizi coordinati mirati alla prevenzione dell'ecosistema locale. In particolare, sono state controllate oltre 15 imprese agricole che gestiscono Frantoi, le comuni di Molocchio, San Giorgio Morgeto, Varapodio, Taurianova e Cittanova, riscontrando il generale rispetto delle normative di settore. Ma i militari non si sono limitati a verifiche all'interno delle aziende, ma hanno esteso i controlli anche ai terreni agricoli e ai corsi d'acqua limitrofi. E proprio durante uno di questi accertamenti, in particolare i carabinieri della stazione del nucleo Carabinieri Forestali Parco San Giorgio Morgeto, hanno individuato un'impresa dedita all'allevamento di bovini, al cui interno era stata realizzata una conduttura abusiva che convogliava i liquami delle stalle direttamente in area boschiva protetta. Per questo motivo i titolari d'azienda sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Palmi. Anche a Varapodio i carabinieri della locale stazione e del nucleo Carabinieri Forestali di Cittanova hanno denunciato il titolare di un'impresa di calcestruzzi, sita nei pressi del fiume Marro, che utilizzava uno scarico illegale per sversare e infiumare i materiali di risulta della lavorazione degli inerti. Da ultimo i controlli dei carabinieri si sono focalizzati anche sul rispetto della normativa edilizia, ambito che riguarda lo smaltimento dei rifiuti industriali e sono state riscontrate delle irregolarità, per cui sono stati denunciati otto imprenditori che avevano realizzato opere senza previste autorizzazioni. Fra questi i due elevatori avevano costruito un'intera stalla per il ricovero di suini in totale spregio dell'impatto ambientale e che tale realizzazione ha sull'ecosistema. Per tutti i predetti comunque sono state altresì contestate sanzioni amministrative per un totale di 220 mila euro circa, connesse all'obbligo di ripristino dei danni ambientali riscontrati. Si è proceduto al sequestro preventivo delle aree oggetto di inquinamento, ma in ogni modo i procedimenti penali sono attualmente pendenti in fase di indagini e l'effettiva responsabilità delle persone deferite sarà poi vagliata nel corso del successivo processo.